Una buona serata, ben trovati a TGM Sport Friuli Venezia Giulia, l'informazione sportiva di Media24. Apriamo il giornale con la Triestina, l'Alabarda non va oltre il pari 1-1 al Tognon con la Pergolettese, servizio di Marco Fachin. Fallisce l'operazione continuità per la Triestina, a cui non basta il gol di Facundo Lescano all'ora di gioco per tornare alla vittoria in casa. Con la Pergolettese è solo 1-1, con il manto va vincente venerdì sera con il risultato di 2-0 ai danni della Gianna Erminio che scappa ora così a più 11, 57 punti contro 46. Anche il Padova, seconda forza del campionato, non è più ormai a portata di una sola partita, a più 4 con 50 lunghezze, grazie alla vittoria domenicale in trasferta contro Novara per 0-3. Partita dura fin dal principio quella di Fontana Fredda, con la Triestina che crea sì occasioni, Vallocchia, Celeguin, Durso e Lescano, ma anche concede agli avversari, soprattutto con Felicioli. Gli alabardati comunque non riescono a dare ritmo e velocità alla loro manovra nel primo tempo, che termina con il risultato di 0-0. Nella ripresa ci prova prima Redan, poi al 61esimo, e Lescano a spedire in rete il pallone del vantaggio, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Durso. Unione così avanti per 1-0, ma la situazione non dura molto. Solo 12 minuti dopo, infatti, al 73esimo, è Giauari a mettere in pari la contesa anticipando Struna e mettendo il pallone in fondo al sacco per l'1-1 definitivo. La Triestina ci prova negli ultimi minuti in maniera confusionaria, senza però riuscire ad arrivare alla vittoria. Anzi, è proprio il portiere Agostino a evitare il clamoroso stop interno nei minuti finali. Nel prossimo turno, l'alabarda giocherà nuovamente in casa, ospitando domenica prossima, il 4 febbraio, al Tognon, la Propatria. Scendendo di categoria, una domenica da dimenticare per le nostre regionali impegnate in Serie D, vince invece il Portogruaro. Marco Fachin ci racconta tutto sul ventunesimo turno del Girone C. Turno numero 21, quarta giornata del Girone di ritorno per il gruppo C della Serie D, in gran parte amaro, per le nostre squadre impegnate in interregionale. Lo score parla di due sconfitte, una interna e una invece esterna, e una vittoria tra le muramiche. È veramente maledetta la stagione del Charlie Smuzzane, che al della Ricca è uscito sconfitto in maniera incredibile, ad opera del Treviso, per 1-2. Squadra della bassa avanti al 39esimo del primo tempo con Lucatti, ha condotto in vantaggio quasi tutto il secondo tempo, salvo poi farsi raggiungere e sorpassare dal mortifero 1-2 degli ospiti con Der Spinis, che aveva già punito i carlinesi all'andata al novantesimo. Arancio-blu che rimangono così al sedicesimo posto, mentre i bianco-azzurri invece rosichiano altri due punti alla Clodiense, fermata in casa dal Breno sull'1-1. Niente terza meraviglia per il Chions, che dopo i due derby vinti non riesce ad avere il terzo squillo di questo gennaio. A Mestre finisce 2-0 per i padroni di casa, che da quando è arrivato mister Giulio Giacomini hanno racimolato 7 punti su 9, grazie alle reti di Viviani a fine primo tempo e di Brigati a inizio ripresa. I gialloblu rimangono così a quota 26 punti in classifica sopra la zona play-out, ma vengono proprio superati dagli arancioneri, che salgono a 28. Infine il Portogruaro torna alla vittoria anche in zona play-off, grazie al 2-1 rifilato al Montebelluna, al Mecchia. Reti di Nicoloso e Andrea Rossi, mentre la segnatura ospite porta la firma di Tiam, e grazie anche al secondo stop consecutivo del campo d'Arsego in casa, battuto dalla Dolomiti Bellunesi per 0-1, i ragazzi di Mister De Mozzi riagganciano il quinto posto con 34 punti in classifica. Si è giocato in eccellenza il terzo turno del girone di ritorno, servizio sull'intera giornata a cura di Marco Bisiac, più la sintesi di Progorizia e San Luigi. Alle spalle di un Bria Lignano che anche quando soffre come contro il calcio Maniago Vaiontes sa solo vincere, al netto dell'intricatissima lotta salvezza, uno degli spunti di interesse di questo campionato di eccellenza è dato dalla corsa al secondo posto, che vale i play-off nazionali. Dopo il terzo turno di ritorno, in tal senso c'è una novità, perché la sensazione di un cambiamento dei rapporti di forza è stata confermata dai risultati del campo. La Progorizia è lanciata ed è adesso seconda a fianco della San Vitesse, dopo che i goriziani si sono liberati del San Luigi, sconfitto al Bearzot per 2 a 1, e che i biancorossi pordenonesi non erano andati oltre lo 0 a 0 nell'anticipo del sabato contro il Codroipo. Ancora più staccato il Tolmezzo-Carnia, quarto e in difficoltà pure contro la Spal-Cordovado, fanellino di coda che anzi ha sfiorato il colpaccio in Carnia e si è vista raggiungere al 92esimo sul 2 a 2 da Nagostinis. Ma tornando alla sfida che abbiamo potuto seguire direttamente dalla tribuna, Progorizia-San Luigi, c'è da dire del protagonista assoluto del match, l'attaccante goriziano Ciro Luccheo, che ha segnato il primo gol dopo appena 17 secondi dal calcio d'inizio, approfittando di un appoggio arretrato troppo corto della difesa triestina, e poi ha raddoppiato in apertura di ripresa con un preciso rasoterra dal cuore dell'area su assist di Edisonotti. Il tutto nella partita nella quale proprio Luccheo e Oti hanno festeggiato insieme le 100 presenze in maglia bianco-azzurra. Dall'altra parte San Luigi si rammarica per l'avvio shock di entrambe le frazioni, ma nella ripresa era riuscito a riaprire la contesa con il bel gol di testa di Andrea Carlevaris, poi espulso nei minuti finali per un contatto giudicato da Rosso diretto con Francesco Lombardo. E così la Progorizia, che con gli spazi lasciati dal San Luigi sbilanciato la ricerca del pari e ha sfiorato più volte il tris senza trovarlo, ha conquistato la terza vittoria in altrettante uscite il girone di ritorno salendo a quota 37 punti e sempre a meno 14 al Bire Lignano. I gabbiani sembravano in controllo contro il calcio Magniaco Vaillant, avanti per 2-0, ma poi si sono fatti riprendere sul pari e c'è voluto il gol di Simone Butti, peraltro ex Progorizia, nel finale concitato per confermare la striscia vincente. Tra le altre gare del turno, importanti in ottica salvezza erano gli anticipi del sabato tra Zurap e Mariaco e Sistania Seslian, che hanno pareggiato 1-1 con il gol dei Delfini e arrivato all'ultimo respiro. E quello tra Rive d'Arcano Fraibano e Juventina. Ha vinto la squadra di Max Rossi per 3-1 con una partenza sprint nella ripresa dopo un primo tempo in cui la Juve era piaciuta e che si era concluso sullo 0-0. Sempre in ottica salvezza, colpi domenicali del fiume Veneto-Bannia, 2-0 in casa del Chiarbola Ponziana, del Tamai, 2-1 sulla Profagagna e soprattutto dello Zaulo-Erabuiese, uscito dalla zona play-out con il successo per 3-1 nello scontro diretto contro il tricesimo. Ascoltiamo infine le voci dell'allenatore della Progorizia Luigi Sandrin e del vice-allenatore del San Luigi Luca Vascotto nel sports partita del Bearzot. Luigi Sandrin, allenatore della Progorizia. Un'altra vittoria, un'altra prestazione convincente, secondo posto agganciato una domenica col sorriso. Sì, hai detto bene. Abbiamo fatto tre punti importanti contro un'ottima squadra. Sapevamo della difficoltà della gara perché incontravamo una squadra che domenica, ripeto, secondo me ha perso in maniera netta ma immeritatamente perché ero a vedere la partita quindi oggi secondo me avvantaggiati anche di aver sbloccato la partita dopo un minuto su un movimento che avevamo provato e poi una volta che abbiamo gestito secondo me il primo tempo molto bene. Secondo tempo, secondo me una volta fatto il 2-0 ci siamo un po' seduti e abbiamo permesso al San Luigi quasi di rientrare in partita però dopodiché c'è stata una grandissima reazione da parte della mia squadra di fatti secondo me abbiamo creato 3-4 situazioni per arrotondare e chiudere forse la contesa che è stata viva fino all'ultimo secondo quindi non posso che fare complimenti alla squadra perché abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi e quindi questo è una dimostrazione che siamo sulla strada giusta la squadra ha raggiunto un po' di maturità in più rispetto al giorno d'andata e sappiamo che ogni domenica è una guerra quindi oggi ci teniamo ben stretti questi tre punti qua e guardiamo avanti alla prossima tranquillamente. Anche fisicamente date l'impressione di stare bene pressavate fino al 95esimo oggi? Ma sicuramente sì anche perché abbiamo dei giocatori che hanno queste caratteristiche qua forse è venuta fuori oggi ancora di più la nostra fisicità perché credo che oggi sia Grudina che Boschetti hanno ripreso a macinare chilometri contento si è sacrificato tantissimo e quindi credo che mi fa piacere perché i ragazzi durante la settimana si allenano sempre bene con la testa e anche con la giusta voglia quindi questo è il giusto premio per loro. Luca Vascotto vice allenatore del San Luigi allora qui al Berzotto oggi è arrivata una sconfitta dettata soprattutto da questi due gol arrivati proprio all'inizio alla prima azione del primo tempo e praticamente la prima azione offensiva del progresso del secondo è stata dura poi ovviamente rimettere in piedi una partita ci avete provato ma non è bastato ciao a tutti sì come hai detto tu direi che l'episodio dopo 20 secondi di partita neanche ha condizionato l'approccio della nostra partita benché dopo nel corso del primo tempo la prestazione è stata è stata buona una volta trovate le misure e preso le giuste distanze il secondo tempo ci abbiamo ci abbiamo provato purtroppo nella loro prima occasione nel secondo tempo c'è stato il il loro raddoppio per fortuna l'abbiamo riaperta quasi subito però dopo la partita si è indirizzata su un alto tasso di fisicità purtroppo non siamo riusciti a a ritrovare una con forza e determinazione la la possibilità di andare ad attaccare nuovamente per far male per fare il secondo gol del pareggio al danno si è giunta la beffa più che altro nel finale avete perso anche carle varis che è un uomo preziosissimo con questo rosso che vi ha fatto discutere abbiamo perso andrea esattamente oltre al danno anche la beffa c'è stato un parapiglia a metà campo l'arbitro ha visto questa questa situazione purtroppo speriamo di perderlo per il meno per il meno possibile perché non è stata una condotta violenta ma dovremmo gestire anche questa criticità nelle prossime in questa settimana scendendo di categoria in promozione gironea il Casarsa si aggiudica 3 a 0 il derby con il Torre e si porta più 5 sulla seconda in classifica posizione che si è aggiudicata di prepotenza il Fontana Fredda Corsaro 1 a 0 in trasferta con la Buiese coronando così una rimonta dopo un inizio difficile di stagione solo un pari 1 a 1 tra Forum e Gemonese nel big match di cartello di giornata nella zona calda della classifica importante vittoria del fanalino di coda Sacilese 2 a 0 all'Unione Basto Friuli vittoria anche per il calcio aviano e per la cordenonese 3S chiudiamo con la prima categoria girone A cambia ancora lo scenario dell'avvincente campionato regionale la capolista Vigonovo interrompe la striscia consecutiva di 7 vittorie e con la sconfitta subita contro Lazzanese per l'effetto del gol di Dimas in zona Cesarini viene ripresa 34 punti sul gradino più alto del torneo dal Pravis 1971 che esce indenne grazie al Pan in rimonta 1 a 1 contro il VCR Gravis che si conferma ottimo terzo in graduatoria con 33 punti il rompe al quarto posto a quota 31 il San Daniele che batte 2 a 0 e raggiunge la Virtus Roveredo a tal proposito avremo le interviste dei tecnici posizione condivisa anche con l'Unione San Martino al tagliamento che batte 2 a 0 il giovane Sarone Caneva in zona salvezza a balzo in avanti del Ceolini che batte di misura il Barbeano non da meno sono i successi esterni della Liventina San Odorico 2 a 1 all'Unione Ororai nel Valle Noncello 2 a 1 al Calcio Bagnia siamo con il mister Krapiz del San Daniele intanto buonasera benvenuto grazie allora mister la possiamo definire quest'oggi la vittoria del gruppo ma assolutamente certo sì ormai da metà dicembre che stiamo votando a livello di gruppo per venirne fuori e sono bravissimi al di là di quelli che sono i risultati insomma però bravi bravi bella vittoria la prima partita che ritornavamo a San Daniele dopo il 12 di dicembre quindi c'era abbastanza pathos non è non è stato facile i ragazzi sono molto legati si sono legati ulteriormente quindi insomma ho una squadra forte l'ho sempre detto quindi va bene la vittoria di oggi va bene per come è venuta soffrendo giocando bene a tratti soffrendo per lunga parte visto che siamo rimasti in dieci l'infortunio di Gori e di Bertoli abbiamo finito i cambi quindi bravi quanto è stato difficile gestire le settimane successive a quel tragico evento è stato gestire gestire intanto non è che ho dovuto gestire perché comunque essendo parte integrante del gruppo abbiamo dovuto gestirci tutti assieme è stato difficile è difficile è difficile sarà difficile fino alla fine è una cosa che ci rimarrà per sempre dentro però insomma siamo fatti caracalcio e la bellezza di questo sport fatto come come lo intendo io quindi livello di gruppo livello di gruppo di grandissime persone oltre prima che di giocatori solo un gruppo così poterò venire in forma quindi siamo bravi sono bravi ragazzi ma su questo non avevo grandi dubbi e adesso con questa vittoria cambia qualcosa siete lì cambia che sabato andiamo a Barbeano non cambia niente siamo contenti è il campionato difficile siamo a 31 punti che sono tanti alla seconda del giro di ritorno non è falsa modestia ma io lo dico ormai da tantissime settimane facciamo i punti che ci servono prima di prima di incappare spiacevoli sorprese adesso appunto sono tanti viviamo la giornata non abbiamo tabelle non abbiamo mire di alta classifica abbiamo sicuramente il fatto di rimanere in prima categoria anche il prossimo anno e il fatto di di giocarci una bella semifinale di coppa con gli amici di Uriviniano insomma si vedrà sarebbe stata la stagione perfetta abbiamo sbagliato tutto tutto quello che c'era da sbagliare l'abbiamo sbagliato è una partita che abbiamo meritato di perdere perché non non abbiamo fatto niente di quello che facciamo di solito o di quello che proviamo per cui c'è da fare i complimenti a San Daniele che ha fatto un'ottima partita ha fatto quello che doveva fare noi abbiamo creato poco e quel poco l'abbiamo sbagliato per cui è meglio rimboccarsi le maniche e pedalare perché perché è dura così magari la situazione appena dopo la vostra superiorità numerica il salvataggio praticamente sulla linea e il gol poi un minuto più tardi sulla ripartenza forse lì che è stata poi la chiave di tutta la partita secondo me è tutta oggi non siamo proprio entrati in partita nel primo tempo nervosi abbiamo fatto girare un po' con la palla nel secondo tempo abbiamo cercato di di mettere dentro un po' più di qualità con Benedetti però non abbiamo fatto niente di quello che facciamo di solito quindi è una sconfitta meritata come ripeto quindi merito a San Daniele che ha fatto la sua partita e ha portato a casa i tre punti meritatamente questa sconfitta cosa cambia per voi a livello di ambizione di classifica cambia qualcosa non cambia niente nel senso che il nostro obiettivo siamo partiti dall'anno scorso siamo salvati i play out il nostro è un processo di crescita e deve continuare così la crescita passa anche attraverso queste battute d'arresto perché comunque abbiamo una squadra abbastanza giovane per cui è normale avere ogni tanto queste battute d'arresto dobbiamo prenderla come insegnamento e come crescita come punto di crescita e quindi noi ripartiremo domenica cercando di stare di stare lì dove siamo adesso e visto che ci siamo cerchiamo di starci fino alla fine dando battaglia anche per questa sera è tutto io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia TGM Sport Friuli Venezia Giulia torna come sempre domani sera dopo il telegiornale condotto dal collega Alessio Conforti intanto noi vi lasciamo la programmazione serale del canale e a seguire la partita di promozione del campionato di prima categoria tra Cussignacco e Manzanese una buona serata Grazie a tutti